Una delle domande che mi fate più spesso è qual è la cosa che cambia di più quando diventi imprenditore? La risposta in realtà è diversa per ognuno, ma posso parlarvi della mia esperienza. Prima di tutto però c'è da fare una premessa, riguarda la grande distinzione tra chi fonda un'azienda da zero e chi ne acquisisce una già avviata, perché l'acquista, l'eredita o da manager arriva a diventarne CEO o partner. Ecco, io ho sempre fondato le mie aziende e questo ha cambiato la mia vita in modo radicale, perché avviare un'impresa non è solo una questione di lavoro, è una scelta di vita e diventa parte della tua identità. È come sposare un'idea e da lì in poi non ci sono più confini tra il lavoro e la tua vita personale, tutto si mescola. Comunque, se c'è una cosa che posso dirvi e che riguarda tutti gli imprenditori è che aumenta enormemente il numero di persone che si incontrano e la mole di informazioni che si devono processare. Oggi, ogni giorno, mi interfaccio con tante persone quando ne intercettavo prima in sei mesi. E così tra riunioni, call, eventi, mail e documenti mi è diventato impossibile ricordare tutto e ho dovuto trovare nuove strategie per farlo. Quindi, diventando imprenditore, ci ho rimesso la memoria. Che poi, chissà se è vero o se è semplicemente perché sto invecchiando.